Il Cilento e il Vallo di Diano ancora una volta in mostra alla Bitt di Milano. Le peculiarità del vasto territorio e i progetti pensati per il suo rilancio hanno trovato spazio all'interno del padiglione della regione Campania. Gli operatori non hanno fatto mancare le loro proposte per il mercato turistico nazionale e internazionale e le istituzioni territoriali si sono date da fare per intrecciare nuovi rapporti per la realizzazione di progetti ritenuti importanti per lo sviluppo economico e sociale delle rispettive comunità. In particolare sono stati stretti rapporti con il nuovo consorzio denominato Rete Destinazione Sud che associa non solo imprenditori ma enti importanti del mezzogiorno dalle Camere di Commercio alle Regioni. Ed è proprio a questo consorzio che il Sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, ha proposto di lavorare insieme per il potenziamento nel sud Italia dell'alta velocità e dei collegamenti via mare. Un progetto, ha detto, che è stato pienamente condiviso dal consorzio con il quale terremo prossimamente un nuovo incontro. A questa nuova realtà associativa ha già garantito il suo appoggio anche la provincia di Salerno, rappresentata alla BIT di Milano anche dal consigliere Carmelo Stanziola, Sindaco di Centola. Solo se iniziamo a sostenere progetti di largo respiro sarà possibile, ha detto, pensare ad ottenere finanziamenti per il potenziamento infrastrutturale e dei servizi utili per l'industria turistica. Il ministro alla Cultura, Dario Franceschini, durante la sua visita alla BIT, ha fatto tappa nello stand del Cilento. Agli operatori e agli amministratori presenti ha garantito il suo sostegno alle iniziative che giungeranno dal territorio e da lui ritenute utili per lo sviluppo culturale e turistico per la vasta area protetta cilentana e valdianese.